e che lo sta dicendo a mia madre proprio? ma se questo filino fosse suo non la prego dottor Casparilla prego dobbiamo fare queste comprate a stasera insomma dei figli non erano ok insomma a me non piacciono queste cose è noioso non mi hanno più dato quelle belle telenovele brasiliane che a me piacevano un sacco anche se erano davvecchiace infatti i miei miei dicevano ah sì anche mia nonna mi guarda non vi manca il signor conversindo però il filino c'è mai stato oltre a madre è un vero buono in queste telenovele il dottor Mariano era carino ma insomma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti